Guardi, non le dico nulla di più rispetto a quello che già la gente vede. L'Italia è un paese che accoglie tutti e accoglie da sempre a braccia aperte. Anzi, troppo buonismo purtroppo ci sta portando in qualche caso ad esasperare poi l'animo delle persone più miti. Il fatto di fermo è un fatto episodico, specifico, da circoscrivere e da contornare. E mi spiace anche che si tragano molto spesso le conclusioni prima ancora di aver capito dal punto di vista della meccanica giudiziaria come i fatti poi si sono evoluti. Ma diamo per assunto che sia stato un gesto di risposta piuttosto che sia stata una provocazione razziale. È un fatto isolato, specifico. Questo è un paese che accoglie 300.000 persone all'anno. Questo è un paese dove da sempre la gente è tra le più accoglienti che ci siano. Che adesso si debba ascoltare la lezione perbenista, buonista o se vogliamo colpevolista della signora Chiang veramente la trovi inaccettabile. Perché qui non si tratta di far la morale agli italiani. gli italiani non hanno nulla da farsi insegnare in termini di accoglienza. Casomai dovrebbero essere rispettati un po' di più considerando che non si debbano creare discrepanze e discriminazioni come invece avvengono nella considerazione tra chi non rispetta le leggi e chi invece le leggi rispetta. Perché questa è l'unica cosa vera che in Italia bisogna fare, riportare il buon senso al governo. interno.